Ciao ragazzacci sono Meteorotico e siamo qui in No Pineapple Left Behind E' un gioco un po' particolare, ve lo dico già adesso, se non siete pronti non lo guardate Però se siete pronti a vedere un gioco particolare guardate questo video E' un gioco difficile da descrivere, però io quando vedo manageriale divento pazzo Non ho capito se questo è ancora un tutorial oppure no Però noi ce ne faremo una ragione, perché è mezzo tutorial e mezzo no L'obiettivo è fare un milione di soldi in 14 giorni con 24 studenti Come si fanno i soldi? Semplicemente andiamo a guardare qui I soldi ci danno in più, a parte quelli che spendiamo noi per gli insegnanti Ci danno i soldi, il grado, quindi è più americana questa cosa, ABCDF In Italia si usava, poi non si usava più, in Italia cambiano da giorno all'altro Una volta si usava ABCDF, poi non si è più usato, poi si è passato ai decimi Una volta i diplomi erano in sessantesimi, non si sa dove cazzo hanno, vabbè Comunque parliamo del gioco No Teacher, ok, iniziamo questo che dovrebbe essere un mezzo tutorial Mezzo tutorial, due già li ho fatti, vediamo come funziona Teacher, non abbiamo teacher, quindi dobbiamo assumere due insegnanti Uno di inglese e uno di matematica Quello che costa di più è più, cioè chi è più bravo e c'è chi è meno bravo Questo ci costa 240 al giorno Io direi di prendere Mr., Mrs. Monsignor, Mrs. Gurnall, ok? Subito, dopo che l'abbiamo presa, andiamo ad abbassare il prezzo Perché, guardate qui, loro guadagnano più 21 di energia al... No, possiamo lasciare due 10, eh Questo più 20, però ne spende poi una ventina, quindi mettiamo più 21 Ok, lasciamo così, lasciamo Cambiamo subito questo Mi serve l'esperienza, questo ve lo faccio vedere dopo Ok, dobbiamo fare questo mezzo tutorial che dice che noi abbiamo dell'influenza, che è qua Influence Ne guadagno uno al giorno Ne ho tre, va bene Tu puoi scegliere, puoi apprendere, cose speciali Il vice principal, sarebbe il vice preside, secondo me, principal, sì dai Può, con il tasto destro, hackerare il cervello degli studenti Pensate un po' che bellezza E far andare direttamente in classe Perché non tutti gli studenti andranno in classe E non tutti gli studenti sono studenti Lo vedrete subito, lo vedrete Quindi facciamo subito, prendiamo Andiamo a velocità 1 Ok, 1, 2, mettiamo così Ok, vi faccio vedere Questi sono studenti Cioè, queste sono le due professoresse Ok, unlike other people in fruit Ok, posso prendere questo e mandarlo qui Come vedete, questi non sono studenti Sono frutti Ok, possiamo anche hackerare la testa di un bambino Hackeriamo la testa di questa Vai un po', ok Sta hackerando e ci vuole del tempo per recuperare Ok, tu vai qui dentro Così la manda a casa Fermiamo un attimo Perché voglio subito cambiare Memorizer mi fa perdere un'umanità Non mi fa guadagnare niente Questo c'è il 60%, 90% di successo Memorizer E mi fa guadagnare 6 grades 6 grades sono quelli che ci daranno poi i soldi a fine giornata Idem per questa signora Perché ancora non abbiamo dell'esperienza per sbloccare quello che succede dopo Visto che comunque sono, il 90% è molto alto Visto che poi facciamo due corsi A e B Uno che parte da 7, uno che parte da 12, 50 E hanno 3 ore per mangiare circa 2 ore 10, 11, 12, sì 2 ore per mangiare No, 3 ore Sì, quasi 3 ore per mangiare Abbiamo due corsi Loro spendono, ve lo faccio vedere Qua c'è scritto che spendono 10 di energia Lasciando 210 al giorno Rincopereranno 21 punti di energia Quindi adesso che Squish lo sblocca lui Andiamo Ok, andiamo così Andiamo un po' più veloci Ok Whenever Ok, anche se tu non selezioni il vicepreside Continuerà automaticamente a hackerare il cervello dei bambini per mandarli in classe Ok Quindi Poi c'è scritto teachers Gli insegnanti possono manipolare i bambini Colpendoli con il loro laser Richiede dell'energia il laser Clicca Allora, left click Questo qui Questa ne ha 70 Questa quanto ne ha di energia? 70 E 70 Ok E poi dobbiamo And then Ok Left click Teacher And then Right click Child To zap to the child Ok Vedete qua Sta preparando il laser Open the laser panel Questo qui Si Consuma due Ogni bambino Ok E cancella una quest di ogni bambino Perché Andiamo di nuovo in pausa Ogni bambino qua c'è delle quest Su Se si fa un nuovo amico Gli danno 5 punti umanità Quindi non lo fa diventare un Pineapple Ah Ananas Tutti chiamano Ananas questo frutto Gli inglesi lo chiamano pineapple Mi fa molto piacere E in più Da 5 per ogni bambino Ma io Direi che Visto che dobbiamo fare solo dei soldi Noi dei bambini Ce ne freghiamo un po' Vediamo qui Il primo corso Doveva partire fra poco Questo qui Lo mandiamo qui La signora Vai qui Così mi hackeri questi qua Gentilmente Mi li hacker a lei Questi qua stanno lavorando Non mi servono quelli là Non mi serve Si 70 70 Alle 7 L'orario è qui Sono le 6.54 Alle 7 partirà Il nostro primo corso Che è l'E3 Andiamo a velocità 3 Così parte E va bene Questo qui Intanto qui Le hacker a tutti Ok Successo E di più E quello quanto era Di più Ok One teacher Ok Un insegnante Può cambiare Do this now Ok Prendiamo il pineapple Un friend nova Ok Perché ci fa guadagnare grades Sono proprio i grades Che ci servono Per prendere più soldi Spells Ok Spells Funziona automaticamente Laser Dobbiamo noi Decidere Quando applicarlo Però noi non Applicheremo Laser Perché Quindi questo ha fatto Di più Quello ha fatto Invece C E C va bene D vuol dire Che prenderemo Dei soldi Per qualsiasi cosa Allora vada da fare Allora intanto Andiamo nel budget Come vedete qua Abbiamo 24 studenti A C meno Vuol dire che Prendiamo 2004 Però fermati un po' Qual è il problema Il problema è che abbiamo Questo qui Che ci costa Il vicepreside Veramente tanto Infatti dovremo Subito buttarlo Io infatti Lo firezzo Firelo Aspetta Non posso farlo Ok Il tuo vicepreside Perché questo qui È mezzo tutorial Ve l'ho già detto È molto costoso E cioè lo so Ho visto Costa 2000 Ok Lo butto subito Lo butto Fire Ok Così Fammi vedere B Di più Prendiamo 0 Spendiamo però Cazzo Abbiamo speso un po' Andiamo veloce Adesso gli studenti Andranno a casa Vedete qua C'è il pullman Che poi scompare Qua ci sono questi qua Che sono Peraltro a me Mi servirebbero Solo Me sono i grades Che mi servono Abbiamo perso 420 dollari Bene Ci può stare Iniziamo la giornata Andiamo a controllare Il teacher C'ha 69 di energia Quindi è recuperato E questo ne ha 71 Ok Questo avendo fatto Il laser Ha speso un po' di più Abbiamo 14 giorni Per Per fare 1000 dollari Per andare in pari E a noi ci serve Andiamo a vedere un po' qui Questo c'ha Uno di esperienza Vediamo se me lo fa cambiare Questo 3 Questo non lo posso fare Benissimo Qua invece me lo fai Due punti esperienza Non mi fa fare niente 91% però Penso che sia un buon risultato Andiamo a velocità 3 Non capisco Bene bene Come cambia la velocità Perché così cambia Così vanno un po' più velocino Però Mi aspettavo così In più Da velocità 3 Ok L'importante è fare soldi In questo momento Chiudiamo qui Successo E Successo Ok D e C- Questo qui non va benissimo Questa classe Signora Mi aspettavo qualcosa in più Da lei L'ho assunta Pensavo fosse brava Abbiamo di più In questo momento Come Come rates Possiamo fare una cosa Qua perché esce del fuoco Esce del fumo Vabbè Non so perché c'è del fumo Questo Vediamo se mi fa Il secondo turno Me lo fa buono Quicksand D più Successo E D Eh no D più E D Non ci basta però Per esempio poi Adesso come avete visto I teachers Hanno Hanno speso Dell'esperienza Hanno 51 di energia Adesso torneranno Il giorno dopo Con più energia Perché In base a quanto li pagate Loro recuperano l'energia La notte passa velocemente Le 6.46 Arrivano loro Perfetto Eh più 21 E più 21 Va bene Eh Moch ha 3 punti Andiamo così Blocchiamo un attimo Sblocchiamo questo quantification E abbiamo Questo qui Meno 6 e 10 Questo mi da 15 in grades Quindi Signora Lei vada con quantification Eh Lei Ne ha 4 punti esperienza Vada con il Lambic Eh 87% 87% Però spende 15 Ma a me che me frega Spende 15 15 per 2 Fa 30 Quindi dobbiamo dargli 300 euro Così recupera Quello che deve recuperare Mettiamogli un 32 Così recupera un po' di più Visto che siamo bassi La signora invece quanto spende 10 10 20 Quindi mettiamogli 22 Eh Spendiamo un po' di più Per fargli Perché più energia hanno Più è alta la percentuale Che hanno Di completare con successo Il Il loro Il loro corso Adesso noi qua Possiamo anche girare Premendo Premendo Control E il tasto Sinistro del mouse Vediamo se me lo No ancora perché sono Alle 7 Incomincia la prima lezione Ricordate che per ogni lezione Spendono Success And success Ok Abbiamo un cp Guardate qui Cp vuol dire che guadagniamo 180 Se loro migliorano ancora Mettete visto Investendo sugli insegnanti Questo gioco è un po' Una satira Al sistema Al sistema americano E quindi dovete Immaginarvi di essere in America Intanto qui qualcuno Si trasformerà in In Come si chiama In successo Cazzo Questo ha sbagliato Oh per colpa di questa Signora qui Ma la prendo a pugni La prendo Mi fa sempre perdere tutto Questi qua hanno fatto F Per colpa di questi Non abbiamo preso soldi E abbiamo riperso Io ho già provato una volta A fare questo Come si chiama A fare questo 11 giorni rimasti A fare questo Questo scenario Però È stato molto molto difficile Forse devo usare Lo spell 72 Tu signora 74 Ok Tu fai 89 Tu quanto fai Invece 92 Ok Stasignora C'ha il coso più alto E sbaglia pure Allora 1400 Siamo sotto Invece di guadagnare Noi perdiamo Speriamo che oggi Vada bene questa giornata Guarda questi qua Che fanno sempre ritardo Successo È successo Abbiamo un cp Che ci fa guadagnare 180 Adesso loro vanno a mangiare Perché alle 9.55 Mangiano Io qua lascio sempre Il massimo della velocità Però Non ho capito bene Come funziona Questa velocità È un po' Alternativo Il metodo di controllo Della velocità Alle 12.50 Comincia la seconda lezione Guardate qui Tutti questi Pineapple Sono Quelli Che Non sono più Ok Successo Successo C Eh però Con c Non guadagniamo Perché non guadagniamo Con c Eh guadagniamo Troppo poco E spendiamo di più Speriamo che domani Fazzano meglio Il pineapple Sono dei bambini Che non hanno più Umanità E sono diventati Allora Teachers recharge Loft of extra Energy Over the weekend Ok Ok Quindi Durante weekend Loro si ricaricano Di più 76 E io come dovrei fare Ah perché Friday E mo questa signora C'ha un sacco di energia No Non è vero Next week 96 Quindi devo abbassarlo Tantissimo Per farlo andare Sulla sessantina Lo portiamo a 200 Ok 200 al giorno Anche questo 66 200 Ok Più 60 Ce la può fare Andiamo sempre Felicità 3 Speriamo che oggi Ci sia Il boom Della nostra scuola Comunque la signora 74 Next week Avrà 60 Quindi dovete sempre Stare lì a controllare Bene Come Quanto spendere Sugli insegnanti 60 energie Nel fine settimana Sì perché stanno Ok successo E questo invece Successo è successo Ok però C non ci basta Questo fa B meno Questa signora qui Non si impegna Cara mia bella signora Io Stia tranquilla Che la licenziereò Ok vedete qua Questo qui è diventato Un pineapple Purtroppo Lui è diventato Un pineapple Perché ha perso Tutta l'umanità E quindi Quando perde l'umanità Ok successo è successo Però sto ancora perdendo Però sto perdendo di meno Sto perdendo di meno Ok Loro vanno a casa E venerdì Venerdì come sapete C'è la fine della settimana Questo qui è diventato Non so se Fare diventare Sia La signora spende La signora spende 10 Quindi 10 per 2 Fa 20 Questa qui invece Spende 15 Quindi questa qui Devo dare 300 dollari Così sta sempre al massimo E qui c'è sempre il 100% Di possibilità di vincere Ok vada così Andiamo a velocità massima Dovrei farcela Quanti giorni c'ho C'ho 7 giorni 7 giorni ce la posso fare Se si impegnano bene Queste personcine qua Il grado è molto alto Vedete questi qua sono Non sono più Perché li trasformo Da bambini in ananas Perché le ananas Non hanno bisogno Invece i bambini ci rompono le palle Ok abbiamo guadagnato 220 In questa prima sessione Perché i bambini Guardate qua C'hanno un sacco di Di problemi Ecco diciamo Questo qui c'ha il disturbo Della tensione Secondo me l'ADD È il disturbo dell'attenzione E perde 10 gradi Quindi non ce la fa In più è bisessuale Clusmi Non mi ricordo Ok successo è successo Guardate qui 220 Oh ci va bene Ci va Così siamo Siamo 7 giorni Ce la dovremmo fare Quindi 220 Dovremmo farcela Dovremmo farcela Bisessuale Espressiva Ed è lenta In più Ha un sacco di Questi Di cose particolari C'è Non riesce Vuole uscire Con quella lì Con una donna Ovviamente Ma ha cancellato tutto Andiamo a velocità 3 E questi qua hanno recuperato Va bene La signora ha recuperato Io c'ho queste cose Ma non Vabbè Questo qui fa Pineapple Ray Non mi interessa Questo qui mi dà Più 10 Però perdo 500 No Non mi va bene Perdere 500 E quindi Vediamo così Iniziate a fare Quest'altra edizione Secondo me Non ce la facciamo Ed è la seconda volta Che ripeto Questo obiettivo C C- E B- Eppure la signora Dovebbe essere a posto Fammi l'idea ai teacher 85-90 Eh sì È giusto Dovebbero arrivare Sempre con Voi dovete mettere In modo tale Ad arrivare sempre Al massimo dell'energia E dare il possibile Però A meno che Non ci conviene Però se io abbasso E che qua è proprio Una questione difficile Io è la seconda volta Che lo ripeto Ci è Guardate qui 140 Niente 140 Non va bene Eppure io speravo Di ottenere Qualcosina in più Perché sto Perdo La signora C'ha il 100% E questo qui C'ha l'85% Forse devo utilizzare Quel laser Domani utilizziamo Il laser Facciamolo Le mandiamo da casa 345 Vanno a casa Ok 140 Subito arrivano 645 E gli diamo Quel laser Vediamo se ce la facciamo Con quel laser A fare qualcosina in più Fermati Questo qui C'ha il laser Che gli da Più 2 grade Però consuma 2 Ok Ho sbagliato Possante E lo utilizziamo E questo qui Signora Cosa c'ha lei Anche lei Deve utilizzare Questo Ok Quindi Mettiamo velocità 1 Così quando loro entrano Io riesco Allora tu Usami il tuo laser Ok Lei c'ha più 2 La sta laserizzando Ok Perfetto Vediamo se vanno in classe Sti l'incoglioniti Devo Qua devo farlo io Devo comandare Sono tutti pineapple Perché Vedete qua I pineapple sono bravi L'ananas Pineapple E ananas Sono bravi Vanno subito in classe Invece I studenti Non vanno in classe Ovviamente Ok Tu Usalo su di lei Tu Usalo su di lei Ok Così Li miglioriamo un po' Li miglioriamo Vediamo un po' Se migliorandoli Tanto in più Usalo su di lui Tu usalo di nuovo Su questo Ok Non me lo fa No Non posso farlo Ah Perché non lo vede Ok No L'ha visto Ok Vediamo se così Riesco a stancare un po' Stancherò un po' Successo E successo 220 Però non stiamo andando bene Perché siamo sotto Di 1050 Abbiamo solo 5 giorni Per guadagnare 1500 dollari C'è qualcosa che non mi torna E io È la seconda volta che faccio questo tutorial È la seconda volta che lo sbaglio Peraltro Bu Non lo so Qua fanno un sacco Allora Signora Lei non può andare a Gli dia un colpettino a questo Che è not zap Ah non ha Non ha amici Quindi non lo può Non tutti li può fare Perché poi dovete andare a soddisfare anche il loro Le loro Le loro problematiche Cioè i problemi che hanno Questo qui c'è più C'è più C'è più non è tanto eh C vuol dire che siamo proprio sotto la media Ma io non ho un altro Un altro Studenti Fermati Fermati un po' Qua cos'è che mi dice Ah tutti i miei studenti Perché guardate Quelli là con zero umanità Sono più bravi Quelli che hanno tanto umanità Sono delle capre Sono Quindi Non riesco a farlo La seconda volta che faccio questo Questo Che dovrebbe essere un tutorial La seconda volta che lo perdo Cioè Vi rendete conto Cioè È una cosa incredibile Questa c'è a 94 Questa c'è a 94 Quindi va bene Va bene 12 punti esperienza Ma che non mi servono A dire la verità L'importante per me È che loro si impegnino A dagli ste capre Delle elezioni L'importante è che loro Non capisco perché Niente Non riesco a passare Questo primo Questo terzo Successo è successo Qua prendiamo 220 Però quando poi torno Fanno C e C Quindi Andiamo di nuovo sotto Se noi andiamo a vedere Nel budget Più loro guadagnano 24 studenti C più E più Spendiamo tanto in salari Però No Il problema è che a me Mi fotte all'inizio Mi fotte A me all'inizio Mi fotte tantissimo E peraltro Ci sono solo 4 giorni Un terzo giorno È già finito Quindi abbiamo Due settimane Perché 14 giorni Sono due settimane Ci ha fregato Ci ha fregato il gioco Di nuovo Mi ha fregato È difficilissimo Io non riesco A battere questo gioco Tomorrow Più 30 Io questo gioco qui Non riesco mai A A Vincerlo Ed è un tutorial Questo Non è una cosa difficile Dovrebbe essere facilissimo Dovrebbe essere facilissimo È un tutorial È una terza missione Io la terza missione Non Uso Spend to improve grades And decrease humanity Ah Lo vedi qua Lui mi dice proprio Se non usi Il tuo spell Non ce la puoi fare Ok Spellizziamoli tutti Allora Andate in classe Gentilmente Ah Peraltro io se mi giro un po' Fermati un po' Fermati Tu Spellizza questa Non la posso spellizzare Spellizzami questa Allora Così li trasformiamo Tutti in pineapple Tu spellizzami questa Ok E spellizzami anche questo No Non me lo spellizza Perché Spellizzami questo Ok Tu signora Mi faccia questo Forse adesso ce la facciamo Dovevo farlo dall'inizio però Eh però così Spendo tantissima energia Ok C e B L'importante è che loro Scendano E diventano tutti quanti Diventano Che diventino tutti quanti Del pineapple Più pineapple hai Più è alto il tuo grado E più guadagni Però mi sa che Ce l'ha fottuto di nuovo Peraltro Friday Non è il giorno in cui Sì Devo abbassare Questo qui guadagna 60 Me ne bastano 24 E tu signora Quanto Quanto guadagni 90 Me ne basta 40 Ok 150 La signora è più brava a recuperare Successo è successo 4 e 90 Guardate lì quanto abbiamo guadagnato oggi Però sono finiti i giorni E non ce la faremo Questi qua sono diventati tutti quanti Pineapple Ok No La prima volta che ho giocato Ho fatto 4000 sotto Quindi Sono migliorato Però Eh però Cazzi però Eh i giorni passano No C'ho ancora altri 3 giorni Vai a velocità 1 Ok La signora come è messa Ne spenderà 20 Quindi Ti rimetto 200 A te Ok Perché ne spendi 20 Tu come sei messa Ne spendi 30 Sì Ok Quindi Vediamo un po' Sono rimasti pochi alunni Da elettrizzare Tu elettrizzami questa Ok La elettrizziamo Così diventa Diventa quella lì Ok perfetto Vediamo se riesco a elettrizzarla di nuovo Elettrizzala tanto Ok Tu prova Prova proprio a elettrizzarla al massimo Chi te frega Pure che gli facciamo qualcosa al cervello Chi se ne frega Non è che il cervello mio Cioè forse il mio cervello È che loro non vanno in classe I bambini Sono una cosa incredibile Non vogliono andare in classe Tu elettrizzalo Elettrizzalo Elettrizzami anche lei Deve perdermi umanità Fammi vedere Quanto umanità c'hai 84 C'ha tantissima umanità No Non riesco a elettrizzarla più quella Ma la puoi elettrizzare No Perché non si può elettrizzare Perché non è in vista Ok Elettrizzami questo Elettrizzami questa No Non si possono elettrizzare alcuni Alcuni Non me li fai elettrizzare No friends Quelli senza amici Non possono essere elettrizzati No Non posso elettrizzare più nessuno Perché non 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 è in vista Vedete qua È un po' un casino Questa no Perché non c'ha amici Quindi non li posso Vediamo così Bibi Oh 2005 Forse ce la possiamo fare Forse ce la possiamo fare 2005 io vado su Eh Peraltro Fermati un po' Visto che è l'ultimo giorno Dove sono le maestre Maestra Lei devo togliere tutto lo stipendio Anche lei Le devo togliere lo stipendio Vediamo se ce la facciamo Oh forse ce la faccio Forse utilizzando questa tattica qui Di pagare bene le maestre E investire nel loro Nel loro laser Ce l'ho fatta a fare questo terzo livello Che ho dovuto ripetere due volte Vedete qua Tutti quanti questi qua A parte questi Un paio di bambini che sono rimasti I bambini non studiano bene Le ananas invece sì Non so perché Non me lo chiedete È un po' satirico il gioco Però funziona così Funziona Secondo me ce l'abbiamo fatto Perché 2000 Qua c'è 630 Più 1000 le ho fatti Infatti Finalmente ce l'ho fatta You win Uh fighissimo Io però non so se è normale Che un bambino arrivi a scuola E torni ananas Cioè arrivi bambino Ed esca Cioè entri bambino Ed esca ananas Però Se nessuno si lamenta Che cazzo me ne frega Facciamo Quit Ok E si è chiuso il gioco Dicevo Ve lo riapro intanto Poi Che cazzo Non ho capito Perché fai quit E si chiude il gioco Ti sembra normale Allora facciamo play Ok È fatto con unity Quindi Poi dovrò regolarmi A tagliarmi bene questa cosa Io ho fatto 1,2,3 Devo fare questo qui Questo qui però Me lo farò Hyperspace Inhibitor Filled The bus driver Union Ha creato Ok Uno scudo Iperspaziale Inhibitore Scudo inhibitore Iperspaziale Eccolo Finchè Non si Non si sarà risolta Questa questione Tutti gli autobus Arriveranno In litaldo Ah ok Non andare in bancarotta Bene Bene Proprio a me Mi dice questa cosa Niente Finiamo questa Questa puntata Noi ci vediamo Nei prossimi episodi Ciao Ciao